Ariete, tenero, innamorato, dolce, come non mai oggi tutto sarà un contorno all'amore, al rapporto di coppia se c'è o al desiderio di crearne uno. Toro, oggi dovrai riflettere sul rapporto di coppia che stai vivendo, quello che stai cercando di costruire e convincerti del fatto che l'amore è prima di tutto un dare. Gemelli, sarà un anno denso e produttivo sul fronte professionale, oggi ne avrai un primo assaggio perché si delineeranno progetti e opportunità professionali. Cancro, dopo giorni decisamente no, oggi cominci a recuperare forze, energie, entusiasmo e voglia di stare tra la gente. Leone, oggi il leone non avrà voglia di combattere, così lascerai che gli eventi si susseguano e ti travolgano. Vergine, oggi sarà una giornata al limite della perfezione, tutto filera liscio e qualche punta di noia ci sarà. Bilancia, Saturno a favore ti darà una marcia in più vivace e pimpante, non sei mai stato così in forma, conquiste possibili. Scorpione, un importante successo al lavoro frutto dell'impegno di tutti sulla tua bocca diventa solo un tuo successo personale, qualcuno ti ascolterà e perderai la sua stima. Sagittario, incomprensioni di prima mattina con il partner e ritardi sulla tabella di marcia lavorativa saranno un motivo di nervosismo, giornata un po' grigia. Capricorno, al lavoro tutto nella norma, in amore invece sarai in vena di conquiste e corteggiamenti. Acquario, Marte belligerante ti regalerà un po' di nervosismo quanto basta per metterti sulle difensive e ad essere facilmente irritabile. Pesci, oggi non riuscirai a non pensare a chi è più sfortunato di te, gli farai sentire la tua presenza e darai il tuo aiuto.